Un buon test per la Virtus Francavilla contro un buon Gravina, quindi un altro passo avanti nel cammino che porterà poi tra 20 giorni alla vita del campionato. Sì, sicuramente un buon test, sono contento, siamo ormai a tre settimane, quindi dobbiamo assolutamente adesso continuare su queste basi, anche stasera ho voluto verificare alcune cose, abbiamo tanto da lavorare, però gli indirizzi che stiamo cercando di dare sono una buona base di partenza. Dopo una prima parte del precampionato in cui solitamente schierava la difesa a tre, nell'ultima Amichevo di difesa a quattro, questo è un orientamento definitivo o solo sperimentazione? No, no, credo che sia opportuno per una squadra come la nostra riuscire a interpretare due sistemi di gioco, ci stiamo lavorando, ringrazio i ragazzi perché si applicano tanto, abbiamo fatto un grosso volume di lavoro e adesso in queste tre settimane che ci portano al campionato cercheremo di lavorare più sulla qualità e poi avremo tempo per fare le scelte più definitive. È stata una partita vera, una partita tirata, loro hanno fatto due euro goal, noi abbiamo fatto una bella partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo avuto le nostre occasioni e quindi sono contento per come è stato l'approccio della partita sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo principale è di far bene tutte le partite, poi piano piano ci torneremo delle belle soddisfazioni quest'anno, ho una bella sensazione positiva in questa squadra, è una squadra costruita per far male a parecchie squadre, quindi ci daremo da fare.